Mannaggia la miseria di chi ancora vive nella povertà estrema. Mannaggia la miseria di chi ancora non ha accesso a cure e cibo. Mannaggia la miseria di chi soffre l'effetto delle disuguaglianze. Mannaggia la miseria di chi non ha colpe per la crisi climatica. Ma ne subisce le peggiori conseguenze. Mannaggia la miseria di chi non ha accesso a pari opportunità. Perché dove vive determina se e come vivrà. Mannaggia la miseria di chi è escluso dai tavoli decisionali. Dove determinano chi ne sarà del nostro futuro. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria.